sì lo so utilizzi il wifi e tutto sommato ti dici che ne sei soddisfatto perché dovresti toccarlo ma poi ti viene il dubbio quelle volte in cui stai guardando un film in streaming oppure stai facendo quel giochino che ti piace tanto e improvvisamente la tua connessione che tutto sommato andava bene si trasforma come per magia in un bradipo ubriaco sui pattini da ghiaccio che annaspa disperatamente per farti fare quello che vuoi fare con il tuo pc o meglio vorresti e allora ti sto per proporre una soluzione che senza scaricare alcun programmino senza toccare nessun parametro sul pc oppure sul router ti consente di migliorare la qualità della connessione internet in una maniera davvero pazzesca e anzi sto per dimostrartelo dati alla mano e quindi se ti senti pronto iniziamo e prima di passare alle vie di fatto non dobbiamo dimenticare di porgere gentile omaggio ai nostri padroni di casa e naturalmente sì sto parlando di loro le famose o famigerate divinità del tubo che andremo tosto a blandire per mezzo del nostro consueto rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ed iniziamo questo video in una maniera un pochino inusuale infatti mi trovo spostato sul lato sinistro del tuo teleschermo ma semplicemente per mostrarti che questa macchina qui da cui sto facendo il video è collegata per mezzo di un collegamento wifi ha un segnale quasi pieno dato che il router si trova molto vicino e per la precisione alle mie spalle ma dietro un muro abbastanza importante che è proprio quello che vedi inquadrato per andare avanti farò una cosa assolutamente facoltativa che quindi se vorrai potrai saltare a pie pari andrò a scaricare un software per misurare la mia velocità di connessione in questo momento e per farlo farò assolutamente come al solito e quindi aprirò il mio browser e nel motore di ricerca andrò a digitare come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it andiamo ad aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione downloads quando si sarà aperta la pagina scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questo ucla speed test che ho già messo online neanche cinque minuti fa e ho visto che hanno scaricato così a caso già quattro persone va bene clicchiamo sul pulsante file download per andare a scaricarlo dopo che il file sarà stato scaricato andremo a vedere come aprire installare questo strumento di misurazione aspettiamo ancora qualche secondo dato che il download è un pochino più corposo rispetto al solito visto che sono 48,16 megabyte ma eccolo qui pronto sulla nostra macchina facciamo clic su questa casellina per andare ad aprirlo dopodiché chiudiamo la finestra del browser retrostante che non ci serve più e concentriamoci sul file che abbiamo appena scaricato quello che faremo infatti sarà un bel clic destro del mouse seguito da un clic sulla voce estrai tutto clicchiamo sul pulsante estrai attendiamo alcuni secondi e vedrai che ti comparirà una seconda cartella con il file di installazione di questo programma a questo punto facciamo doppio clic proprio su questo file qui seguito da un clic sulla voce esegui e potremo andare avanti con questo pulsante clicchiamo ancora su avanti per completare la fase di preinstallazione clicchiamo sul pulsante installa ed acconsentiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo l'installazione a questo punto sarà terminata come vedi è velocissima e potremo fare un clic sul pulsante termina ma attenzione tenendo spuntato il nostro esegui speed test by ukla ok nel frattempo che il programma si avvia potremo chiudere le due cartelle retrostanti che non ci servono più e ci ritroveremo di fronte al nostro speed test facciamo semplicemente caso al fatto che stiamo utilizzando almeno nel mio caso il server fast web posizionato a milano e quindi di utilizzare lo stesso server in tutti e due i test che faremo andiamo a vedere la nostra attuale velocità della connessione wifi che viene stimata in direi 180 quasi 190 in download con un ping di 5 millisecondi quindi decisamente buono così come buona la nostra velocità viene adesso effettuato il test della velocità in upload che si attesta attorno ai 170 forse quasi 175 megabyte per secondo anzi megabit per secondo ok il nostro test è terminato ma a questo punto facciamo una bella fotografia dei risultati non sei tenuto a farla anche tu cliccando sul pulsante stamp inquadrando la nostra finestra con i risultati appunto e aprendola qui in basso ok su questa iconcina qui abbiamo i nostri attuali risultati del test direi che la maggior parte degli utenti si riterrebbe anche soddisfatta con una velocità di download di 190 megabit per secondo e di upload di 172 errotti al secondo tuttavia quello che molto probabilmente ignori è che questa è solamente una piccolissima percentuale della velocità reale che potresti utilizzare e sto per dimostrartelo naturalmente questo avviene perché il wifi è un mezzo limitante e quindi crea un collo di bottiglia e abbassa notevolmente le prestazioni indipendentemente dalla qualità del wifi nel momento in cui il tuo computer si collega al router non utilizzando una connessione cablata cioè una connessione che fa uso di questi cavi qui tuttavia come tutti ben sappiamo non è possibile nel 100 per cento dei casi tirare un cavo che vada da ogni singolo computer fin dietro ad ogni porta del router ed è proprio a questo punto che ci viene incontro uno strumento preziosissimo e sto parlando di questi dispositivi miracolosi ho ingrandito l'immagine per farteli vedere al meglio che rispondono al nome di powerline e attenzione no questo non è assolutamente un video sponsorizzato questi che ti sto mostrando sono i powerline che utilizzo a casa mia ma come funziona un powerline in realtà è molto semplice come vedi è dotato di una spina elettrica che devi attaccare in una presa vicino al computer mentre l'altro powerline verrà attaccato in una presa vicino al router e di una porta ethernet posizionata sul retro di ciascuno dei due powerline attaccherai un cavo ethernet in questa porta e collegherai un cavo al tuo computer e un cavo al router in questo modo i powerline moduleranno la corrente elettrica di casa tua facendo sì che tu abbia una connessione equivalente ad una connessione cablata e facendo parlare ad una super velocità il tuo computer con il tuo router e vado immediatamente a dimostrarti e per dimostrarti lo altro non farò se non aprire il pannello di controllo sul mio pc ed entrare nelle centro di connessioni di rete condivisione modificare le impostazioni attuali della scheda come vedi in questo momento sono collegato con il wifi ma ho disabilitato la rete ethernet che è quella fisicamente collegata al mio powerline se vado a disabilitare il wifi vedi che immediatamente cade la mia connessione ad internet ma abilitando la rete ethernet questa connessione viene ripristinata diamogli qualche secondo ed ecco fatto quello che faremo adesso sarà un ulteriore controllo della velocità ti ricordo che i vecchi valori erano 190 erotti in download con 172 erotti in upload se andiamo a lanciare un nuovo test di velocità molto probabilmente il risultato ti lascerà veramente sorpreso come vedi stiamo viaggiando a quasi 900 megabit per secondo in download il ping si è abbassato di un ulteriore millisecondo mentre la velocità di upload è rimasta abbastanza sovrapponibile perché si attesta sui 200 megabit per secondo circa aspettiamo il termine del test facciamo un piccolo confronto con gli altri risultati e vedi che abbiamo abbassato un pochino il ping cosa molto importante per i gamers abbiamo incredibilmente velocizzato il nostro download la velocità è oltre che quadruplicata mentre la velocità di upload da 172 è passata a 200 virgola 63 ok un taglio non previsto dato che in realtà mi è squillato il telefono ma almeno ne ho approfittato per cambiare inquadratura ma torniamo a noi e tutto oro quello che luccica beh sì a patto di seguire delle regole estremamente precise come si fa con i gremlins infatti devi sapere che i nostri amici powerline sono estremamente protagonisti e vogliono innanzitutto una presa elettrica tutta per loro quindi se possibile utilizza solo prese dedicate evitando l'utilizzo di ciabatte e spine triple in secondo luogo utilizza solamente i due powerline che acquisti e che ti vengono forniti nella confezione salvo che non siano confezioni multiple perché in quel caso sono fatti apposta un'altra raccomandazione di cercare di evitare per sfruttare al meglio la velocità di collegare i powerline vicino a fonti di rumore e per fonti di rumore non alludo a quello che fa baccano che possiamo ascoltare con le orecchie ma ad esempio dei microonde che emettono per l'appunto microonde oppure determinati tipi di lavatrici oppure ancora quei vecchi alimentatori per telefono che per intenderci sono quelli che li senti ronzare mentre li stai utilizzando perché questi abbassano la qualità del segnale un'altra raccomandazione che posso darti è ovviamente di avere una un impianto elettrico in casa tua adeguato che non abbia grossi problemi ma questo te lo consiglio comunque e a prescindere ti lascio alcuni modelli di powerline che ti consiglio nella descrizione di questo video ci sono anche gli stessi powerline che uso io solo nel modello più nuovo che è migliore e comunque costa uguale quello che ti sconsiglio vivamente è l'acquisto di powerline economici perché possono costare attorno ai 40 50 euro ma non fanno adeguatamente il loro lavoro e soprattutto si bruciano dopo poco questi che ti sto consigliando costano sui 170 180 euro la coppia e possono durarti degli anni e migliorare proprio come hai visto infinitamente la tua connessione a internet ebbene sì l'uso dei powerline ha cambiato la vita purtroppo solo informatica di tantissimi miei clienti che dopo averli provati non tornerebbero mai più indietro quindi il mio consiglio generale è laddove sia possibile sostituire il wifi con un powerline sicuramente di farlo ci sono una serie di modelli che sono validi ma quelli che ti lascio come ti ho già accennato nella descrizione del video magari te li metto anche nel commento in evidenza sono quelli che ho testato personalmente che ho sempre fatto utilizzare ai miei clienti e che nel tempo hanno avuto una ottima riuscita ma veniamo a noi o meglio ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima ciao ciao ciao